Tanti minuti per nuotare nel mare delle Sardine, riempiono le piazze, rifiutano le bandiere e sono anti, soprattutto Salvini. Un movimento pacifico e spontaneo, non tutti sono d'accordo. Qualcuno prova a metterci il cappello, loro per ora resistono. Ma per quanto? I nostri ospiti sono pronti, noi facciamo le domande. Abbiamo solo 20 minuti per indagare il fenomeno del momento, ossia le Sardine, il nostro titolo, che cosa vogliono realmente. Allora vi presento la squadra di questa sera, l'onorevole Marco Rizzo dei Comunisti Italiani, Francesco Giubilei, presidente della Fondazione Tatarella e collegato da Bologna abbiamo Mattia Santori, leader del Movimento delle Sardine. Benvenuti a tutti. Allora, la narrazione inizia più o meno il 14 novembre, nel frattempo le Sardine sono cresciute, si sono moltiplicate. Il leader del Movimento dice se manca una politica seria è anche colpa nostra che abbiamo dormito negli ultimi 20 anni. Onorevole Rizzo, abbiamo dormito? Ma negli ultimi anni l'economia ha preso il posto della politica. Lo si vede in tutto e per tutto. Quante volte avete sentito dire, quando c'era una manovra economica importante, la facciamo ma sentiamo cosa dice Francoforte. A Francoforte cosa c'è? C'è la Banca Centrale Europea. Vediamo cosa dice Bruxelles. A Bruxelles cosa c'è? C'è l'Unione Europea. Infatti lei ha fatto un post molto critico dicendo che è un'operazione di distrazione di massa mentre l'Europa ci distrugge in qualche modo. C'è stata una concomitanza tra il MES, il meccanismo economico di stabilità. Questo vorrei, adesso non so se è contemporanea la cosa, ma indubbiamente i due tempi sono uno sopra l'altro. Io credo, quando le persone manifestano è sempre una cosa positiva. Che poi quella forse è una piazza un po' vostra. Forse essere contro Salvini, solo contro Salvini, forse è un grande favore a Salvini. Andiamo da Santori. È un grande favore a Salvini. Solo contro Salvini o anche contro qualcun altro? Non siamo contro Salvini ma siamo contro il populismo e la deriva leghista che un po' tutta Italia sta prendendo. Siamo una sorta di anticorpo a questa creazione di consenso fatta, costruita d'arte tramite strumenti che ormai iniziamo a conoscere, che riteniamo pericolose. Evidentemente il fatto che le piazze si riempano in maniera così spontanea e così numerosa è un segnale che in qualche modo la gente aveva bisogno e voglia, l'esigenza di tornare a dire qualcosa. Gbilei, non tutti sono d'accordo che sia un movimento spontaneo. Ma il discorso è che questo paese avrebbe bisogno di idee, avrebbe bisogno di proposte e non solamente di proteste. Peraltro proteste anche con una grande confusione ideologica che è la base delle Sardine. Santori parla di populismo ma chi è più populista delle Sardine? Vanno in piazza senza idee, senza una base culturale, senza una base valoriale? Nel loro manifesto confondono due concetti diversi che sono il concetto di sovranismo e il concetto di populismo e io credo che farebbero forse bene a tornare all'università e studiare un po' meglio quelle che sono le categorie politiche piuttosto che andare in piazza con slogan francamente senza un senso. Santori è così? Così cosa? Che dobbiamo tornare all'università? Che siete vuoti in realtà? Che siete più populisti dei populisti? Ma c'è molta gente che parla e non è mai venuta a partecipare a queste piazze. Io ne ho fatte 5 o 6 e ne avrei fatte anche di più e in tutte queste piazze ho respirato tutt'altro. ho respirato una grande energia, una grande voglia di rivalsa nei confronti di probabilmente una politica che è stata un po' lontana e anche un senso di un esame di coscienza che non è mai sbagliato farsi e forse siamo gli unici che se lo stanno facendo. Rizzo, richiamano in effetti a un'autocritica della politica. Se tanta gente va in piazza, prima con il Waffa, poi con altre manifestazioni, forse la politica si è proprio un po' allontanata dai cittadini. È una piazza che avete in qualche modo anche responsabilmente perso. Avete anche delle colpe? Ma io credo, adesso non voglio rivendicare, io credo di aver consumato le mie scarpe in cortei e piazze in tutta la vita. Cosa non ha funzionato allora? No, certamente stavo pensando dal punto di vista della creazione del consenso e anche dell'indirizzo del dissenso. Io mi farei una domanda, ad esempio, dal punto di vista proprio personale. Io credo che Mattia Santori, ormai conosciamo tutti, sia andato in televisione più in questi suoi 20 giorni che non io in tutta la vita. Ci sarà un motivo, no? Eh sì. Forse ci sarà un motivo, nel senso che bisogna anche interrogarsi, capire quando c'è un'onda e perché l'onda va in quella direzione. Io ho visto negli anni, facendo proprio un'analisi storica, il sistema, il sistema del capitalismo globalizzato oggi, ma anche il sistema capitalistico ieri, prima indirizzava il consenso. In Italia è stato fatto il piano Marshall per costruire consenso. Oggi, nell'Europa globalizzata, nel mondo globalizzato, abbiamo visto indirizzare il consenso. Movimenti che nascono e immediatamente vengono pompati e lanciati. Parlo del Movimento 5 Stelle in Italia prima, ma del Popolo Viola l'altro ieri, in Spagna di Podemos, oppure in Grecia di Siriza, che poi sembrano movimenti di sinistra che cantano appunto Bella Ciao, Bandiere Rosse, Pugni Chiusi, le Bandiere Rosse poi ne parliamo con Mattia, ma come dire, poi quando arriva Tsipras, Tsipras arriva in Grecia e fa esattamente quello che vuole la Troica, quello che vuole il grande potere, la gabbia europea che ha distrutto la Grecia. Perché se noi guardiamo cosa è successo in Grecia, abbiamo visto che quella cura ha ammazzato il malato. Santori, quanto vi stanno corteggiando e quanto resistete? Ma in verità nessuno ci sta corteggiando, almeno non ufficialmente. È chiaro che ci pongono domande sul nostro futuro, ci chiedono dove vogliamo andare, perché c'è un'energia effettivamente che da varie parti dovremo valorizzare, che probabilmente anche altri vorrebbero valorizzare e incanalare verso strutture politiche. Prima o poi dovrà essere finalizzata questa energia da qualche parte, oppure convogliata, o rimarrà un'energia così? Non rischia di essere un'occasione persa poi? Se non si riesce in qualche modo a tradurla questa energia? Dipende, se noi decidiamo che dipende tutto da noi, sicuramente forse ci facciamo aspettative molto alte. Noi abbiamo fatto la diagnosi e probabilmente la terapia dovrebbero darla a qualcun altro. Noi siamo abbastanza attenti a quello che succede, a chi cerca il dialogo e a un certo punto troveremo un punto di contatto non volendo diventare una forza politica. Però avete detto mai con la destra, giusto? Beh, non l'abbiamo deciso noi, nel senso che una piazza che liberamente intona bella ciao e ha valori legati più alla sinistra o al centro-sinistra, sarebbe un controsenso dire che andiamo a parlare con la destra. E come mai avete cacciato la bandiera a Firenze con la falce e il martello? Beh, quella era una provocazione di chi cercava visibilità come tanti fanno con le sardine che comunque è in questo momento, tra virgolette, un brand che va molto. E semplicemente la piazza la fa. Noi non abbiamo detto niente nel momento in cui la gente ha tirato fuori le bandiere di potere al popolo e la piazza ha fatto notare che la visibilità può cercare da un'altra parte, Rizzo, essere cacciati dalla piazza. Io non sono mai stato cacciato, ma credo che ci fosse un ragazzo con una bandiera rossa. Io ho visto quel filmato, era un po' impressionante, perché una piazza che viene descritta contro l'odio, contro il fascismo, contro il razzismo, cosa fa? Caccia l'unica bandiera rossa che si presenta. Quella bandiera rossa è il simbolo della giustizia sociale, della libertà. Non scherziamo. Io non sono mai stato cacciato, a me non me la toglie nessuno la bandiera rossa dalla mano. Ma detto questo, mi ha fatto un po' impressione, ma credo che uno debba ragionare, debba vedere. Io penso che si possano dare dei consigli. Ad esempio, ci sono molti consigli interessati. Quello di Prodi, quello di Monti. Monti è l'uomo delle banche. Sì, Prodi ha detto una cosa, adesso la vediamo. Insomma, bisogna fare attenzione. In quella piazza, in quelle piazze... Le sardine sono formidabili, nessuno le tocchi. Poi in quella piazza ho visto delle bandiere europee. Che è un modo anche per toccarle, magari. Ho visto delle bandiere europee. Ho visto dei pesciolini europei. E il professore dice anche che nessuno si azzardi a colonizzarle. Esatto, lancio un avvertimento, nel senso, fate attenzione ragazzi. Perché se poi risulta che la piazza sembra di sinistra, canta bella ciao. I commissari europei, che sono quelli che spremono i popoli, cantano bella ciao. Le bandiere che appaiono in quelle piazze sono quelle europee. Salvini non va al 50%, va all'80%. E poi c'è un altro punto estremamente importante. Che le sardine nascono in Emilia Romagna, una regione che è governata dal 1945 e dal centro-sinistra. Protestano poi anche a livello nazionale, perché abbiamo visto le piazze di Milano, le piazze di Firenze. Nel 1945 non c'era fortunatamente il centro-sinistra. In un momento storico, dal dopoguerra in avanti, in un momento storico in cui abbiamo il governo più di sinistra della storia italiana e la matrice ideologica di questa piazza delle sardine è palesemente una matrice ideologica di sinistra ma che affonda forse la sua radice anche in quello che è il terrore giacobino. Quindi stiamo parlando della rivoluzione francese. Ed è abbastanza triste che una regione come l'Emilia Romagna, che ha dato i Natali a dei grandi imprenditori come Enzo Ferrari, a dei grandi geni, inventori come Guglielmo Marconi, scrittori come Leo Longanesi e Pasquale, potremmo stare qua tutta la sera, si riduca ad avere un movimento che purtroppo non ha la benché minima idea, la benché minima proposta. Diamo delle risposte al 27% di disoccupazione giovanile che c'è in questo paese. È inutile continuare a protestare. Si sono largate ma nascono lì. Sentiamo che cosa dice l'opposizione. Vorrei sentire prima Matteo Salvini, poi ne parliamo. Non occupa i miei pensieri, onestamente. E lui sostiene anche che la pagina Facebook di Matteo Salvini per il linguaggio efferato e di odio che diffonde dovrebbe essere chiusa? Ma sì, togliamo anche il diritto di voto agli italiani, partendo dagli anziani come dice Grillo, così almeno diciamo che io mi confronto con chi ha idee diverse dalle mie ma quantomeno è rispettoso. Mi sembra che il ragazzo non abbia ben chiaro in testa cosa significa democrazia. La democrazia è chiara, Mattia? Ma dimentica Salvini, ma non solo Salvini, di ricordare che noi ogni giorno i nostri referenti, i nostri organizzatori sulle piazze affrontano ostacoli, ci sono giunte leghiste che cercano di fare qualsiasi trucchetto per evitare di farci manifestare. Il ragazzo che organizzava Massa è stato minacciato di morte, gli hanno organizzato un funerale, hanno organizzato una raccolta fondi per organizzare il funerale. Ma poi Massa lo vediamo perché... Diciamo cosa è successo al sindaco di Massa, racconti cosa è successo al sindaco di Massa. Vediamolo, vediamolo subito, ce l'abbiamo, vediamo cosa è successo al sindaco di Massa, così facciamo un pacchetto unico. Lo vediamo e ne parliamo. Aspetta, andate a una scena di gara di p***a, aspetta, schifosi, schifosi, avresti il coraggio almeno. Vi allontanate per scorsese. Questa è la democrazia, questa è la democrazia. Prendimelo. Che schifo. Schifosi, fascisti. Allora Santori, il pacchetto è abbastanza chiaro, probabilmente non erano delle sardine, però erano lì. Ah, quindi devo risponderne io perché ci sono delle persone che in una piazza di sardine picchiano una persona. Quando noi abbiamo creato un movimento completamente alternativo agli antagonisti, completamente alternativo a chi porta violenza in piazza, e adesso devo rispondere io di gente che picchia un sindaco di Massa. No, rispondere forse no, però magari prende le distanze. Lei prende le distanze da questo episodio? Ma io ho preso le distanze nel momento in cui insieme a tre amici abbiamo organizzato una piazza completamente pacifica con 15.000 persone, mentre i centri sociali andavano verso il Paladozza Bologna. Mi sembra evidente questo. Quindi diciamo che ovviamente non vi assumete la responsabilità di quello che succede, però le distanze poi da quello che è successo non le ha prese formalmente. Le ha prese nell'organizzazione di una manifestazione pacifica, in questo modo prende le distanze. Ma certo che le ho prese. Ma certo che le ho prese. Noi prendiamo le distanze dalla violenza, noi scriviamo ogni giorno sulla nostra pagina no violenze, no insulti, no bandiere. Più di così che distanza dobbiamo prendere. Ok, non sembravano molto i fiori nei camoni. Mi stupisce questo paragone delle bandiere alla violenza. Le bandiere rappresentano delle idee e io credo che le piazze debbano avere attenzione alle idee. Oggi siamo in un mondo dove il lavoro non viene più citato da nessuno, dove ci sono decine e decine di vertenze, di operai che vengono licenziati, di lotte difensive. Cioè sono un simbolo di libertà, non di... Eh, le bandiere, pensate, le bandiere dei lavoratori sono rosse. Quindi questa storia delle bandiere, vabbè, insomma ognuno fa quello che vuole, ci mancherebbe. Volevo sapere da mattina se invece levate le bandiere dell'Unione Europea, quelle possono esserci oppure levate anche quelle? Insomma nel senso c'è una contestazione anche su quelle o su quelle no? Ma vorrei chiarire che noi non leviamo nulla. Nel momento in cui la piazza viene invitata a non avere bandiere, nel momento in cui uno tira fuori una bandiera, gli altri gli dicono non hai capito niente. E Rizzo non ha capito che cosa è successo in piazza Firenze. È successo che 4, 5, 6 contestatori, io ero lì, erano sotto di me, mentre noi facevamo gli interventi, contestavano perché volevano portare all'attenzione il fatto che potere al popolo è un'altra roba. Che è legittimo, però organizzi la tua piazza e spieghi i tuoi messaggi. Perché devi venire a portare un messaggio in una piazza di 40.000 persone che è lì per tutt'altro? Questo non capisco perché bisogna rubarsi visibilità a vicenda. Noi abbiamo organizzato una piazza, evidentemente il messaggio che abbiamo mandato piaceva e la gente è venuta lì. Non rispondo per altri, però la domanda è corretta. Però lei ha affermato che noi abbiamo cacciato via della gente quando non è vera. No, la domanda però è corretta. Non abbiamo cacciato via nessuno. No, io ho visto il filmato, c'era la gente che urlava via le bandiere, però mentre urlavano via le bandiere e c'era quella bandiera rossa... Noi non cacciamo via le persone. Lei Rizzo sta facendo una propaganda anche lei, mi dispiace che la faccia contro di noi, dovrebbe farla contro gli avversari politici. Mi sto chiedendo, le bandiere europee sono bandiere? E le bandiere europee che ci sono nelle vostre piazze, le mandate via? Io ho visto decine di pesci con i simboli europei. No, no, vorrei sapere questo. Facciamo un po' di pesce. La bandiera europea che sta nelle vostre piazze... È ben accolta, diciamo così. È ben accolta, questo volevo sapere. È solo per capire così. Cioè nessuna bandiera... Ma non è una demonizzazione. Se uno vuole portare la bandiera... Però dico, se ci sono no le bandiere e il slogan, e poi vediamo le bandiere europee, qualcuno si può chiedere, ma sono per l'Unione... Ma non è una cosa illegittima dire che uno è per l'Unione Europea? Lo dice... Sartori? No, ma mi dispiace che ci sono concetti facili che tutti hanno capito, ma qualcuno continua a non capire. No bandiere vuol dire no bandiere di partito. Se uno porta un pesce con una bandiera della pace disegnata, una bandiera dell'Europa, non è una bandiera politica. C'era anche un signore con una bandiera colombiana disegnata sopra la sua sardina, ma non mi sembra che Rizzo... Non l'abbiamo capito, infatti l'abbiamo invitata per spiegarcelo, perché così capiamo meglio, è per questo che l'abbiamo invitata, proprio per spiegarcelo, perché da soli delle cose non le sappiamo. Ma infatti è il motivo per cui a me tocca andare in tv, proprio perché devo proteggere questa cosa bellissima che sta avvenendo davanti a critiche che sono assolutamente sterili. Ma che cosa c'è di più populista di quello che sta dicendo Mattia Santori? È il puro populismo, è un movimento senza la ben che minima idea. Perché è un movimento populista? È un movimento che incontra il favore delle piatti. Che cos'è il populismo? Il populismo è una corrente politica senza ideologia, è una corrente politica estremamente liquida, all'interno di cui può entrare di tutto il contrario di tutto, sono le sardine. Le sardine rappresentano oggi il populismo, fanno la battaglia contro se stessi. E questo è il problema, confondendo, e lo ribadisco, sovranismo e populismo. Cioè è una piazza che nasce con un problema iniziale enorme. Allora, le pesa molto in questo momento andare in giro per le televisioni, Mattia? Perché dice mi tocca andare a spiegare. No, spiego perché lo faccio volentieri, nel momento nessuno mi obbliga. È chiaro che ogni tanto facciamo degli errori perché, ripeto, non abbiamo un ufficio stampa e non abbiamo nessuno che ci segue e che forse dovremmo avere, ma non avendo un soldo, e questo è, e ci tenete così. A me fa piacere andare per spiegare, anche in un dibattito come questo, tranquillamente, chi non ha capito e perché, ma non perché sono superiore, semplicemente perché... Noi vi invitiamo molto volentieri perché, come noi, magari anche altri possono avere dei dubbi, le nostre curiosità speriamo che sia... in tv rispetto a voi, farebbe un successo elettorale enorme. Ho pochissimi minuti per chiudere, volevo sentire solo Giorgia Meloni, nella parte ovviamente opposta alla piazza, che cosa dice delle sardine. Sentiamo. Devo segnalare sommessamente che per un movimento che si presenta come movimento contro l'odio, le palate di insulti, di letame, di minacce che mi hanno lanciato sui loro social, mi sembra un po', diciamo, distanti da quello che si racconta di loro. Del resto io ho fatto sommessamente notare che un manifesto ufficiale delle sardine che dice non avete diritto ad avere qualcuno che vi stia ad ascoltare, dovete avere paura, non è esattamente un messaggio di pace. Tutti hanno diritto ad avere qualcuno che gli stia ad ascoltare il punto e quanto le idee di ciascuno siano efficaci per convincere chi ascolta. Per cui io quelli che ti vogliono fare stare zitti perché non hanno idee sufficientemente credibili come le tue, a me fanno sempre un po' sorridere. Del resto le sardine sono l'unico movimento al mondo che scende in piazza per difendere il governo contro quelli dell'opposizione. Era una cosa che non mi era mai capitata. 20 secondi a testa per chiudere. Allora andiamo subito a Bologna. Mattia, riuscirete in qualche modo a vigilare perché i vostri principi, i principi con cui siete nati riescano poi a mantenersi anche nella piazza, nei vostri sostenitori, tra le vostre piazze, tra la vostra gente? Riuscirete a vigilare perché la democrazia si è garantita? Ma non abbiamo troppo bisogno perché comunque le 30 piazze che abbiamo riempito in queste due settimane non hanno avuto questi tipi di problemi e gli anticorpi ce li abbiamo dentro, nel senso che le persone sanno esattamente qual è il messaggio che portiamo in piazza e lo rispettano perfettamente. Anche gente che non aveva mai organizzato piazze e si è trovata dall'oggi al domani a gestire, non so, flussi di 10-15 mila persone. Quindi siamo abbastanza fiduciosi da questa parte. Continueremo a invitarla e a chiederle tutte le cose che non ci tornano e che comunque ci incuriosiscono di questo movimento ancora embrionale. Rizzo, per chiudere, cercherete un contatto con questa piazza? Dialogherete? Ma noi dialoghiamo con tutti, ci mancherebbe. Sono stati dati i volantini anche nelle contiguità delle piazze. Ma il problema, credo, è che bisogna anche sfatare un po' questo discorso della spontaneità. Nella scuola del Partito Comunista Italiano i grandi ci dicevano che non c'è nulla di più organizzato di un movimento spontaneo. Forse non avevano torto. Francesco? Ma a me una piazza che nasce contro un avversario e che viene identificato da tanti di loro come un nemico fa francamente paura. È una piazza che si basa su un manifesto all'interno del quale si dice che le persone che hanno idee differenti da loro non hanno diritto di essere ascoltate. Questo, francamente, è molto antidemocratico e contraddice anche la nostra Costituzione, peraltro. Le domande per questa sera io le ho finite. Voi continuate a cercare le risposte e noi ci vediamo domani. Grazie per averci seguito. Buona serata.